Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 a causa di un incidente ci sono 4 chilometri di coda in direzione Livorno tra Massa e Versilia. Sulla FIPILI per lavori 3 chilometri di coda tra la Strassigna e Montelupo in direzione Mare. Chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione Mare. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Roma tra Firenze Sud e Arezzo. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 64 porrettana all'altezza della galleria del signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!